Nuovi controlli sono stati eseguiti a Cosenza dal Nucleo del Coro Urbano della Polizia Municipale allo scopo di combattere l'incivile fenomeno dell'abbandono dei sacchetti di immondizie e di chi li lascia depositati in adiacenza del proprio portone senza preoccuparsi di differenziare. Nella mattinata di sabato sono stati rintracciati per mezzo di ispezioni accurate all'interno dei sacchetti ben 18 trasgressori che nella fretta di disfarsi dei propri rifiuti hanno lasciato al loro interno bollette telefoniche e di utenze varie. L'ispettore Luca Tavernise, su disposizione del comandante della Polizia Municipale, ha predisposto appostamente gli ispezioni con gli uomini del Nucleo del Coro Urbano che sono riusciti a trovare i colpevoli del gesto incivile. Gli agenti del Nucleo con l'ausilio di attrezzature idonee riescono ad individuare la provenienza della busta abbandonata sia dal cittadino che dall'impresa, facendo così scattare anche le eventuali denunce penali. Negli ultimi mesi sono stati inoltre effettuati anche una serie di controlli sul centro storico dove sono state numerose le siringhe rinvenute usate dai tossicodipendenti raccolte dagli uomini del Nucleo del Coro Urbano e sono stati anche muniti di apposite attrezzature per la raccolta delle siringhe. Una operazione che è stata effettuata anche nei pressi della centralissima via delle Medaglie d'Oro dove è presente la stazione dei Pullman.